Katie Curtis incontra P.F. al Femminile. Presso la sede di Pictea Asset Management, che ha ospitato l'evento, una delle più autorevoli e rinomate financial advisor statunitensi ha potuto condividere la sua esperienza di successo e confrontarsi con le colleghe italiane sulle attuali sfide del mercato. Nata e cresciuta in California dopo una pluriennale carriera nel marketing di importanti aziende del settore consumer, Katie da 13 anni guida Curtis Financial Planning, una delle più note società americane di advisory, specializzata nel financial planning rivolto in particolare al target femminile. Nel suo intervento grande attenzione è stata rivolta alla creazione di una solida online reputation attraverso i social network, sempre più strumento per la creazione di un'identità anche professionale. Un ambito che ha garantito a Curtis una notevole notorietà e che le ha permesso di comunicare nel modo più efficace le sue doti di professionista, fino ad entrare a far parte del CNBC Financial Advisory Board. Ad accompagnare Katie Curtis nell'incontro moderato da Alma Foti, Laura Corti, private banker di Banca Fideuram, e Vincenza Belfiore, head of private insurance solution di Azimut Wealth Management, già protagoniste della rubrica Amazing Women, dedicata alle eccellenze della promozione finanziaria al femminile. Una discussione aperta in cui si sono toccati i temi dei nuovi media applicati alla consulenza finanziaria, del rapporto fiduciario advisor-cliente e del percorso di affermazione delle donne nella professione. Un'ulteriore e importante occasione d'incontro promossa da PFL Femminile, che contribuisce con respiro internazionale a rafforzare la sua mission, valorizzare e promuovere i modelli al femminile della professione, le caratteristiche e le capacità riconosciute alle donne promotrici e le best practice italiane ed estere.